Oggi ragazzi sono molto contento perché finalmente per la prima volta su questo canale ho la possibilità di parlarvi di un marchio che ha fatto letteralmente la storia della fotografia ovvero Laika che a inizio settimana mi ha invitato a Milano per un primo contatto in anteprima con la Q3, la terza generazione della compatta full frame ad ottica fissa di casa Laika. Prima di iniziare l'unica veloce premessa che mi sento di fare è che oltre ad essere una prima volta su questo canale era anche la mia prima volta in assoluto con una fotocamera Laika e in più ho potuto avere la macchina tra le mani per un test negli intorni del Laika store di Milano per poco meno di un'oretta circa. Quindi in questo video io vi racconterò le principali novità di questa Q3 e le primissime impressioni di utilizzo. Poi non vi preoccupate perché da Laika mi hanno promesso che nelle prossime settimane me ne invieranno una in prova per un periodo un po' più lungo in modo da poter fare una recensione seria e approfondita. Smarcato questo diamo subito un'occhiata al corpo macchina della Q3 che in pieno stile Laika ha lo stesso design minimale della Q2, lo stesso obiettivo fisso su Milux 28mm f1.7 e la stessa qualità costruttiva di primo ordine con un corpo realizzato interamente in solido metallo. Dal punto di vista della pulizia estetica nulla da dire e grazie all'incavo per il pollice e al rivestimento del corpo macchina la presa non è male. Ma non me ne vogliono qui i puristi Laika per come sono abituato io a scattare non amo particolarmente le fotocamere senza alcun tipo di grip per la mano. Per mia fortuna sull'esemplare che mi hanno fornito per il test era montato proprio il grip, un accessorio opzionale da circa 150 euro se non ricordo male che oltre a rendere la presa sul corpo macchina decisamente migliore nasconde al suo interno una prima novità molto interessante di questa Q3 che è la ricarica a induzione. Esatto avete sentito bene quando sulla fotocamera è montato il grip la possiamo ricaricare né più né meno come si fa con un telefono cellulare semplicemente appoggiandola su una base di ricarica wireless. Questo perché il grip non è solo un pezzo di metallo extra per aumentare la presa sulla fotocamera bensì come si può notare dalla presenza di questi contatti elettrici nasconde al suo interno tutta l'elettronica necessaria per far funzionare la ricarica a induzione che consente di ricaricare la batteria da 0 al 100% in circa 190 minuti. Tra l'altro questa base sviluppata in collaborazione con Native Union quando non si usa per caricare la camera resta comunque una normale base di ricarica wireless che si può usare per caricare un telefono le airpods e via discorrendo. Avrebbero potuto inserire questa funzionalità direttamente nel corpo senza la necessità di montare il grip? Forse sì ma questo avrebbe voluto dire aumentare le dimensioni del corpo macchina cosa che il Leica volevano evitare a tutti i costi. In ogni caso devo dire che è una funzionalità secondo me molto interessante e non mi dispiacerebbe vederla anche su modelli di altri produttori. Rimanendo sul corpo macchina come sulla Q2 abbiamo un singolo slot per la scheda di memoria SD ma sempre per motivi di spazio interno non troviamo una memoria integrata come sulla sorella M11. Peccato perché sarebbe stata una piccola chicca in più. Visto che l'ho citata prima anche la batteria è stata rinnovata. Ha le stesse dimensioni esterne della precedente adottata sulla Q2 ed è anche retrocompatibile ma è stata rivista internamente per aumentarne la capacità con una durata che ora dovrebbe superare le 350 immagini. Passando rapidamente su alcune novità forse secondarie come una diversa disposizione dei pulsanti sul retro, la presenza sul fianco di una porta USB di tipo C per la ricarica e il controllo remoto e una porta micro HDMI per connettere schermi e registratori esterni perché sì questa Q3 fa anche video ma ne parliamo tra un attimo. Bene al netto di tutto ciò altra grandissima novità di questa Q3 riguarda il display posteriore che oltre a una migliore risoluzione che ora arriva a 1,84 milioni di punti non è più fisso come sulla Q2 ma è inclinabile verticalmente. A livello di design forse la vista posteriore è un pelo meno pulita rispetto alla Q2 ma dal punto di vista funzionale è un enorme passo in avanti che sono sicuro renderà felici gli utenti della serie Q di Laika perché semplifica di molto ottenere certi tipi di scatto come quelli a livello del terreno o semplicemente rende possibile tenere d'occhio l'inquadratura quando si vuole fotografare con indiscrezione tenendo la fotocamera all'altezza della vita. Tra l'altro nonostante queste parti mobili in più rispetto al display fisso della Q2 gli ingegneri di Laika sono riusciti a mantenere per la Q3 la certificazione IP52 per la protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Davvero niente male. Visto il fuori passiamo ora al dentro di questa Laika Q3 perché all'interno ci sono diversi aggiornamenti molto interessanti a cominciare dall'ultimo processore Laika Maestro 4 accoppiato a un nuovo sensore retroilluminato da 60 megapixel con tecnologia quad buyer. Sensore che non è però lo stesso della sorella Laika M11 come sostenuto da alcuni rumors usciti nelle scorse settimane o meglio ci hanno detto che il sensore della Q3 condivide alcune componenti con quello della M11 ma è stato sviluppato ad hoc per questa fotocamera. Bene grazie al sensore quad buyer con la Q3 possiamo scattare sia file raw dng a risoluzione piena di 60 megapixel sia a due risoluzioni ridotte di 36 e 18 megapixel che però cosa fondamentale non sono dei crop bensì sono tenuti raggruppando tra loro più pixel fisici del sensore per creare dei pixel virtuali più grandi. Lo so questa è una spiegazione iper semplificata di un qualcosa di molto più complesso e affascinante dal punto di vista tecnologico ma spero di avervi reso l'idea. In ogni caso il vantaggio di usare queste risoluzioni inferiori non è solo legato allo spazio occupato dai file perché riducendo la risoluzione grazie al sistema spiegato prima aumenta sia la gamma dinamica che passa dai 14 stop a 60 megapixel ai 15 stop a 36 e 18 megapixel sia aumenta la tenuta al rumore ad alti iso. Nei 45 minuti circa che ho avuto a disposizione per scattare con la Q3 ne ho approfittato per fare un po' di foto negli intorni di piazza Duomo dove si trova il Leica Store oltre a qualche ritratto a Giulia che era venuta con me a Milano ad aiutarmi con le riprese. Non sono foto estremamente creative o da pioggia di like su Instagram ma voi sapete che intanto io non sono un amante della street e in più il tempo a disposizione era quello che era. Comunque riguardando i file su Lightroom oltre all'ottima lavorabilità generale del RAW che consente di recuperare tantissimi dettagli sia nelle alte luci che nelle zone in ombra quello che mi ha stupito in positivo è stato proprio il livello di nitidezza dell'obiettivo su Milux 28 mm fisso della Q3. Questo già da tutta apertura e ancora di più una volta chiuso il diaframma ma se volete dare un'occhiata ai file in prima persona senza la compressione di YouTube di mezzo vi lascerò alcuni RAW di questa Q3 sul mio canale Telegram di offerte che trovate linkato qua sotto in descrizione. Ma non finisce qui perché grazie all'aiuto del nuovo processore Maestro 4 anche l'autofocus presenta un'importante evoluzione rispetto a quello solo a contrasto della Q2. Sulla Leica Q3 infatti troviamo un sistema di autofocus ibrido estremamente sofisticato che con l'aiuto dell'intelligenza artificiale combina ben tre sistemi di messa a fuoco. Uno a contrasto, uno a rilevamento di fase e uno DFD ovvero Depth Frondifocus. A livello di primissime impressioni vi posso dire che mi sono trovato tra le mani un sistema estremamente reattivo, facile da utilizzare e con un buon riconoscimento dei soggetti ma ovviamente testare a fondo un sistema autofocus di questa complessità richiede molto più tempo quindi come detto all'inizio ne riparleremo più avanti nella recensione completa. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non volete perdervela. Visto che l'ho citato quando parlavamo di corpo macchina accenno veloce anche sul comparto video perché grazie alla combinazione tra nuovo sensore e processore maestro 4 la Leica Q3 è in grado di registrare video fino all'8k a 30 fotogrammi al secondo con supporto a log, alle lutte interne e ai codec H265 e Apple ProRes con dei bitrate di tutto rispetto. Non mi dilungo molto su questa parte perché nel mio primo contatto mi sono concentrato esclusivamente sul comparto foto ma non vi nascondo che sono molto curioso di testare con calma anche la resa in video anche se ovviamente la Q3 non è una macchina per videomaker e chi compra una serie Q di Leica di certo non lo fa per girare principalmente video. Infine l'ultimissima novità riguarda la connettività con l'app Leica Photos che arriva alla versione 4.0. Grazie a dei miglioramenti interni alla camera in particolare al suo modulo wifi la velocità di trasferimento dati verso il telefono è stata notevolmente aumentata passando dai circa 3 MB al secondo della Q2 ai 35 MB al secondo della Q3. Questo significa in pratica che possiamo trasferire un file RAW DNG a piena risoluzione dalla macchina al telefono per elaborarlo magari con la versione mobile di Lightroom in circa 2 secondi contro i 30 secondi di prima. In più adesso è possibile trasferire molto più velocemente anche i file video oltre a poter applicare direttamente dall'app dei cosiddetti Leica Lux alle nostre foto che potete pensare a grandi linee come a dei preset. Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità la Q3 sarà in vendita a partire da oggi 25 maggio con un listino di 5980 euro che la pone nella fascia alta del mercato come di fatto ogni macchina di Leica. Li vale? Non li vale? Di sicuro a livello di design costruzione e materiali siamo su dei livelli altissimi con una cura del dettaglio estrema e anche le specifiche tecniche vedi il sensore quad buyer non sono certo da meno però detto questo onestamente non voglio infilarmi nell'ennesimo discorso sui prezzi delle fotocamere in generale o delle Leica in particolare perché tanto ci sarà sempre qualcuno che dirà l'equivalente della frase il mio falegname con 30.000 lire la faceva meglio. Detto questo io ringrazio Leica per questa opportunità che spero sia solo la prima di una lunga serie fatemi sapere come sempre le vostre opinioni su questa Q3 nei commenti qua sotto e noi ci vediamo alla prossima!